Si chiama Lu Chewang, è un ragazzo cinese il quale ha fatto, ha creato un tweet contro il razzismo per colpa di questo coronavirus. In particolare il giovane avrebbe scritto su Twitter, sono cinese ma non sono un virus, tutti hanno paura della malattia ma non dei pregiudizi. L'appello di questo ragazzo si è sparso nel 28 gennaio e in poco tempo ha raggiunto un sacco di persone che hanno manifestato piena solidarietà unendosi alla battaglia dei Lu Chewang, l'ondata di paura, di aperte manifestazioni di razzismo in veste non soltanto i cinesi ma tutti gli esseri umani che purtroppo per fortuna vivono in Asia e che sono quelli di origine asiatica non soltanto in Francia ma anche in Italia. E purtroppo questo aziamo si sta diffondendo e molti suoi vanno espresso piena solidarietà un uomo. Infatti però in Francia è nata la città Je suis pas un virus, che significa che non sono un virus, creato proprio dal buon ragazzo cinese. Si è sparso, ripeto, molto in Francia. Grazie a tutti, un saluto caro d'Ariano, narratore italiano.